Buongiorno a tutti, un'altra puntata del fitness ai tempi del coronavirus, però questa volta non volevo parlare di tematiche strettamente inerenti a questo periodo, ma vado un po' a raccogliere fra tutte le varie tematiche che sono le domande che mi vengono fatte. Una delle domande che nel corso degli anni ricorre è quella dell'allenamento tipicamente maschile o femminile. Che differenza? Ma vi devo dire che non è che a livello anche di ricerche scientifiche ci sia una gran differenza, anche perché innanzitutto bisognerebbe vedere qual è la finalità. Devo dire però che sia a livello scheletrico, il bacino, gli angoli di incidenza di alcuni segmenti ossa e chiaramente differenza tra uomo e donna c'è, ma la grande differenza, come è logico pensare, è a livello ormonale. Questo accaduta su problematiche soprattutto a livello di circolazione venosa linfatica e questo determina quasi sempre una facilità della maggioranza delle donne, poi dipende dalla biotipologia, ad avere il discreto inferiore con più problematiche di ritenzione idrica e a volte anche di adipe localizzata sui fianchi, sui glutei. Questo da un punto di vista dell'allenamento si traduce che il muscolo risponde esattamente alla stessa maniera, però vi devo dire che nella maggioranza dei casi, non certo su tutte, è a volte sconveniente insistere sempre con carichi elevati sulle gambe. Attenzione, una grossa differenza, se non avete muscolo bisogna che il condizionamento venga fatto, però si arriva a un punto dove si ottiene sicuramente più risultati, e stiamo parlando da un punto prettamente estetico, con uno allenamenti a circuito, quindi dove le gambe vengono allenate all'interno di un circuito dove magari dentro ci sono anche movimenti per la parte sopra del corpo, in modo di avere un andamento della fase circolatoria alto-basso, ma sicuramente un ottimo stratagemma è quello di alternare un esercizio per le gambe, che potrebbe essere la pressa, lo squat, gli affondi, e nella pausa di recupero inserire i 90-120 secondi di un'attività, chiamiamola aerobica anche se poi non è tale, però stiamo parlando di camminata ellittica, in modo da mantenere un'alta efficacia del ricircolo venoso. Questo per quello che riguarda il distretto inferiore, che poi è la parte più importante ed è quella dove c'è la più grossa differenza, quindi il mio invito è provare sulle donne proprio ad allenare le gambe, se volete anche con i carichi, se avete già una massa muscolare grande potete permettervi di allenarle meno e dedicarvi più invece a qualcosa di circolatorio, mentre se faccio l'esercizio singolo, alternarlo con un movimento cardio. Questo secondo me è una stratagemma che mi attenziona moltissimo. Ci vediamo, alla prossima!